Caro Nino, anche perché di fronte a noi non si è perso un attimo, ti ha ripreso dall'inizio fino alla fine, il nostro caro Franco che ringraziamo di cuore perché è sempre presente. Mi perseguita, mi perseguita, è diventato il mio stalker. Non può mancare lui, sta riprendendo un po' tutto, quindi ti rivedrai nelle riprese che ha anche gestito lui, lo ringraziamo di cuore. Grazie Franco, ufficialmente e pubblicamente, però se mi dai un minuto, io vorrei omaggiare i nostri telespettatori ma anche il pubblico presente con un suono che si sentiva quando io ero ragazzo nel periodo natalizio e che purtroppo oggi come oggi non si sentono più questi suoni. Ci fai questa improvvisata allora, di che si tratta? Vediamo, l'ho detto, un suono natalizio, è messo con uno strumento che hanno portato poco fa con il tir fuori e lo stanno scaricando, poi con un tocco magico questo strumento è andato a finire nella mia tasca. Ah, addirittura, quindi vediamo un po' di questo strumento. Vi presento il mio strumento, è un'armonica a bocca, un'armonica a bocca però... Allora, avviciniamo il microfono perché così magari vediamo che cosa, è una sorpresa che ci fa. La nostra bellissima valletta ci aiuta, ci sostenga. Perfetto, io tengo il microfono, dai. No, questo privilegio. Sì, vai, vai tranquillo, puoi partire quando vuoi. Grazie, grazie. E allora, come dicevo prima... No, lei parla così. Ah, io parlo, io parlo. E allora, come dicevo prima, quando ero ragazzo scendevano dai paesi questi suonatori con... a Ciaramedda, non so dalle vostre parti se si chiama... Si chiama così. Ciaramedda, organetto, chitarra, e suonavano lungo le strade del paese. Poi la gente usciva e regalava qualcosina. Ora mi aspetto anche da voi, alla fine, qualche regalino. E ce n'erai tutto da quelle parti. Va bene, qua no. Qua no, qua no. Bene, signori, il brano che seguirò è Tu scendi dalle stelle. Vai. Qua no. Buone feste. Bellissimo, bellissimo. Amico mio, raccogli da quelle parti. Raccogli da quelle parti. Scusa, mi dovresti ancora aiutare. Mentre da noi nei paesi si avvertiva questo suono, in America invece si avvertiva quest'altro suono. Andiamo anche in America con Nino. Grazie, grazie di cuore al nostro Nino. Grazie. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Non andare via, ci salutiamo dopo. Grazie ancora. Me lo porto? Dai, dai, dai pure a me. Dai pure a me. Grazie al nostro Nino. L'applauso è tutto per te. E noi chiudiamo questa prima parte.